Se anche tu come me soffri di sindrome da fine vacanza, niente paura. Io ho un metodo infallibile per affrontare al meglio il rientro e si chiama cheesecake senza zuccheri aggiunti al caramello salato. Frulla i biscotti finemente, versali in una ciotola e aggiungi poco alla volta dell'acqua fino ad ottenere un composto appiccicaticcio ma non troppo bagnato. Su un piatto pone un pezzo di carta forno e un coppapasta. Inserisci all'interno i biscotti sbriciolati e compattali bene con i polpastrelli. Riponi in frigorifero mentre prepari la crema unendo lo yogurt, la ricotta, il dolcificante e mescola tutto in modo omogeneo. Riempi con la crema il coppapasta solo per metà. Cola il caramello salato e stendilo bene. Ricopri con altra crema lo yogurt, livella per bene e riponi in frigo per circa due ore. Aiutati con un coltello a staccare i bordi e sforma la cheesecake. Decora come preferisci. Io ho utilizzato degli anacardi e del cioccolato fondente. Le ferie saranno pure finite ma la cheesecake l'ho appena iniziata.